Succede che il governo sta utilizzando il decreto cutro per portare avanti la sua disumana propaganda sulla pelle dei migranti che scappano da situazioni di persecuzione. Addirittura ci sono emendamenti della Lega che vogliono eliminare la protezione per chi scappa da luoghi dove c'è la discriminazione per l'orientamento sessuale, da chi scappa da calamità naturali. Francamente tutto ciò lo trovo inaccettabile, specialmente se fotografiamo l'immagine della Presidente Meloni che abbraccia i bambini africani, lì fa quello che dovrebbe fare qualunque persona dotata di un minimo di sensibilità, in Italia viene e lavora per togliere la protezione a chi ha bisogno e da chi scappa da situazioni di persecuzione. Facessero qualcosa e ci dicessero al Parlamento cosa deve essere fatto, lo attendiamo da tempo per un'informativa nel Parlamento, ancora questo non è accaduto, cosa vogliono fare del PNRR? Io vedo ad esempio che c'è un Vice Ministro della Repubblica Italiana che si chiama Bignami che tra l'altro si è aperto un suo ufficio come esponente di governo, vorrei sapere chi paga, a Bologna come rappresentante del governo e sta facendo una battaglia contro il tram a Bologna finanziato con i fondi del PNRR che rischia di far saltare i fondi del PNRR. Noi abbiamo degli responsabili al governo del Paese che rischiano di farci perdere i fondi del PNRR che vanno a fare delle battaglie localistiche e domanda su cui io presenterò anche un'interrogazione ma chi paga l'affitto della sede di governo a Bologna del Vice Ministro Bignami? Tutti i sottosegretari e i viceministi hanno diritto alla rappresentanza di governo nel proprio collegio elettorale? Ci risponda la Meloni a questo quesito?